Parma 06 e privatizzazione dei servizi educativi, una polemica senza fine. Gli ultimi sviluppi da Sauro Salati, segretario generale della Funzione Pubblica CGL di Parma. Il 13 siamo scesi in piazza Garibaldi a manifestare con le educatrici delle scuole di infanzia perché siamo molto preoccupati delle scelte che stanno avvenendo dall'amministrazione comunale di Parma. Non abbiamo capito la scelta di Parma 06, non ne condividiamo le svolte, i contenuti di quel tipo di scelta, non è chiaro dove andiamo a parare perché dopo Parma 06 si potrebbe fare un'altra società di scopo e quindi privatizzare ulteriore strutture. Rischiamo di trovarci con circa 35 lavoratori precari che non avranno occupazione o che se andrà bene potrebbero trovare occupazione ovviamente nella nuova società a condizioni ovviamente economicamente molto più svantaggiosi. 200-250 euro anche in meno al mese calcolate sulle 13 mensilità. Questa è la nostra grande preoccupazione. C'è anche un problema di fondo di cui vorremmo cominciare a discutere che ovviamente è giusto rispondere alla crescita della domanda ma sicuramente bisogna anche individuare un livello di rapporto tra costi e qualità che è quella percepita e data sostanzialmente nei servizi. Questa possibilità finora di confronto non c'è stata data. Anche nelle modalità in cui è stata avviata la società sono state molto rudi e anche brutali nei nostri confronti. Siamo venuti a saperlo pochi giorni prima, abbiamo provato a interrompere un percorso. Non c'è stato dialogo. Spereremmo di aprire un tavolo per confrontarci, per far coprire quanto importante è stata questo tipo di servizio che è l'eccellenza a livello internazionale riconosciuta sui servizi educativi a Parma e non vorremmo disparare questo patrimonio. Per questo ci siamo a mobilitarti, faremo ulteriori iniziative se saranno necessarie ma chiediamo anche che l'amministrazione apra un tavolo di confronto.